Musica Duro intervento dei consiglieri di ritorno e il futuro che parlano di comportamenti responsabili del sindaco e di Snell sulla questione A.C.A. A.T.O.2 minacciano la crisi. Slit è ancora il varo del primo mega yacht realizzato dalla Privilege in programma per questi giorni. L'amministratore Battista dice di attendere un altro finanziamento. Rifiuti la Cesam, sanzionata per quasi 200.000 euro, il comune di Santa Valinella passa le vie di fatto contro la società che gestisce la differenziata e lo spazzamento. Calcio si gioca oggi al ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, di scena Civitavecchia e Ladispoli. Ben trovati dal Tg Alto Lazio, duro intervento dei consiglieri di ritorno al futuro Lungarini, Santori e Cacciapuoti. Assistiamo all'ennesima crisi di maggioranza mediatica, scaramocce quotidiane che hanno prodotto un anno e mezzo di mobilismo politico. Se non cambiano questi metodi inaccettabili, le forze laiche del Consiglio riterranno conclusa l'attuale esperienza di governo della città, rimettendo le deleghe assegnate e aprendo una vera crisi. Per tutti i raguagli, il servizio. Sul caso Acqua potrebbe aprirsi una nuova crisi di maggioranza. E se tutti si sarebbero potuti aspettare che ad aprire l'ennesima emergenza all'interno del governo cittadino potesse essere ancora una volta SEL, con le sue minacce velate di abbandonare il resto della coalizione, a creare scompiglio nel governo sono invece tre consiglieri della lista civica Ritorno e il futuro, Fabrizio Lungarini, Emiliano Santori e Raffaele Cacciapuoti. Ad oggi tutti si sono dimenticati di chiedere loro cosa ne pensano di un possibile ormai imminente e inevitabile passaggio ad Aceato 2. Atteggiamento non più tollerabile. Invece di attendere gli esiti delle consultazioni regionali e discutere con tutte le forze di maggioranza annotuonato, il sindaco e SEL dimenticano la tanto invocata condivisione, nella speranza di dettare l'agenda politica di Palazzo del Pincio, a discapito delle liste civiche che pure hanno la loro importanza all'interno dell'assise cittadina. E' quindi il caso di porre un freno a questo atteggiamento minaccioso che non appartiene alla lista civica Ritorno e il futuro, significando che non è più tollerabile l'attuale dibattito politico incentrato sulle quotidiane scaramucce fra sindaco e SEL. Un comportamento ritenuto dai consiglieri della lista civica responsabile e che in un anno e mezzo di amministrazione non ha fatto altro che produrre mobilismo politico, senza che la cittadinanza abbia percepito un effettivo cambio di rotta dell'amministrazione nella gestione della cosa pubblica. Minacciare di uscire dalla maggioranza su ogni questione, hanno detto, salvo rientrare all'ultimo minuto, è metodo che non intendiamo più accettare. Se si fa parte di una forza di governo, per una volta si dovrà decidere di partecipare a una riunione, discutere, dibattere e quindi uscire con una linea politica comune assunta a maggioranza nel rispetto di tutte le forze. In caso contrario, le forze laiche del Consiglio annodonato non hanno alcuna difficoltà a ritenere conclusa l'attuale esperienza di governo della città, rimettendo le deleghe assegnate ai consiglieri e aprendo una buona volta una vera crisi di maggioranza, dalla quale emergerà chi ha davvero a cuore gli interessi di un comune in ginocchio e in bancarotta e chi invece ha solo voglia di provocare maremoti dentro le proprie calde vasche da bagno. Benvenga la lettera inviata dal Sindaco Tidei al Ministro Lupi per sollecitare la realizzazione della Cività Vecchia Orte nei 18 chilometri non inseriti nel programma del Cipe, ma occorre una mobilitazione massiccia insieme alla provincia di Viterbo per essere maggiormente incisivi. Ne ha convinte l'assessore ai trasporti al lavoro Sergio Serpente, convinto dell'importanza dell'opera infrastrutturale, soprattutto ha spiegato nell'ottica del rilancio, vero della logistica di questo territorio. Bisogna dare risposte concrete alla logistica, che significa porto e significa interporto, inteso come stoccaggio e interscambio di merci, prima ancora che commercio e vendita. Ecco perché secondo Serpente è oggi più che mai necessario che Cività Vecchia insieme a Tarquigni e ai comuni della Tuscia interessati alla provincia di Viterbo propongano un studio di fattibilità e si presenti carte alla mano alla Regione Lazio e al Ministero delle Infrastrutture per garantire la realizzazione della superstrada in particolare nei 18 chilometri mancanti. Freno a mano ancora tirato per quella che vuole essere la Ferrari del mare, secondo il motto della Privilege Yard. Era stata infatti fissata per l'11-12 novembre la messa in mare ed il conseguente varo della P430, la prima nave della flotta realizzata all'interno del cantiere nella zona nord del porto. Invece l'atteso battesimo è stato rinviato, come sentiamo in questo servizio. Freno a mano ancora tirato per quella che vuole essere la Ferrari del mare, secondo il motto della Privilege Yard. Era stata infatti fissata per l'11-12 novembre la messa a mare ed il conseguente varo della P430, la prima nave della flotta realizzata all'interno del cantiere nella zona nord del porto. E invece l'atteso battesimo è stato ancora rinviato. Qualche mese fa campeggiava sull'impalcatura esterna un megastriscione che indicava proprio le date del varo, ma né ieri né tantomeno oggi si è proceduto con le operazioni. Se ne riparlerà nei primi mesi dell'anno nuovo, se tutto andrà come da programma e se non ci saranno ulteriori ostacoli da superare. Siamo in attesa dello sblocco di un importante finanziamento, ha spiegato il direttore amministrativo della Privilege Yard Antonio Battista. Lo aspettavamo per maggio e invece dovrebbe arrivare per fine novembre. Da quel momento in poi ci serviranno almeno un paio di mesi per completare le lavorazioni e procedere al varo dell'imbarcazione. Lavoreremo H24 per poter recuperare il tempo perso. Si tratta di un'enorme struttura di 127 metri di lunghezza per un peso di oltre 6.000 tonnellate. Proprio pare per le sue proporzioni, diventa alquanto delicata la fase di trasferimento dalla terra al mare, con l'imbarcazione che dovrà variare i suoi punti di appoggio. I robusti ponteggi che ora la sorreggono saranno gradualmente sostituiti con centinaia di assi e ruote che al momento opportuno cominceranno a spostarsi verso mare, verso la nuova Darsena-Traghetti, facendo scivolare il mega yacht in avanti su un enorme pontone che si gonfierà per mantenere il livello in piano durante il trasbordo e poi si autoaffonderà adagiando la nave sull'acqua. Al momento siamo all'80% della costruzione dell'imbarcazione, ha aggiunto il direttore amministrativo. Dobbiamo terminare gli arredi, peraltro già pronti dai fornitori, ma non ancora consegnati in attesa dei pagamenti. Le banche, comunque, sono determinate a finanziarci entro la fine di novembre e questo ci rende sereni. Intanto stringiamo i denti. Lo stesso Battista ha poi precisato come per un'opera del genere non sia stato speso neanche un euro di finanziamento pubblico. Andiamo avanti con le nostre risorse, ha aggiunto. Abbiamo avuto almeno 4 due diligence, tanti controlli, tutti con esito positivo per noi. Ma ovviamente dobbiamo fare i conti con un momento delicato. Abbiamo chiesto aiuto ai fornitori per i pagamenti, investendo tutte le nostre energie sui lavoratori. Al momento abbiamo pagato tutto il mese di agosto e stiamo procedendo in questi giorni con settembre. Stiamo facendo tutto il possibile. Riunione è propositiva quella che ha avuto luogo qualche giorno fa tra i sindacati unitari dei pensionati e l'assessore ai servizi sociali Enrico Leopardo. Nel corso dell'incontro sono state fornite indicazioni circa la possibilità per le persone anziane di accedere a contributi specifici quali morosità, bollette, rifiuti e acqua, buona spesa di 100 euro. Gli argomenti trattati erano parecchi ed importanti, spiega l'assessore Leopardo, e laddove era possibile abbiamo preso decisioni inviate. Rispetto alle altre istanze, come il potenziamento della casa di riposo Villa Santina, Leopardo ha confermato che per dare delle risposte significative dovranno essere applicati degli accordi, sia pubblici che privati, essendo comunque la struttura di proprietà dell'amministrazione. E cambiamo decisamente argomento, è tornata con un bagaglio di soddisfazioni ed emozioni e progetti per il futuro, la delegazione civitavecchiese ospite nei giorni scorsi di Shinomachi in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni dalla partenza del samurai a Segura Sunenaga alla volta dell'Europa e di Roma. Sentiamo come andate dalle parole del capo di gabinetto del sindaco Tidei, Patrizio De Felici. Dopo la visita di Shinomachi, il comune guarda al 2015. Sì, stiamo preparando ovviamente le celebrazioni per l'arrivo del samurai a Segura a Civitavecchia che dopo due anni dalla partenza ovviamente dai Shinomachi, dalla baglia di Shinomachi, arriverà nella nostra città. Noi sfrutteremo questo appuntamento per presentare una città all'intero Giappone perché comunque vogliamo coinvolgere l'ambasciata giapponese così come la fondazione Italia-Giappone. Perché stiamo cercando di far candidare Civitavecchia ad ospitare il Japan Week. Ogni anno il Giappone sceglie una città italiana diciamo su cui puntare e lo scorso anno c'è stata Napoli, prima di loro Venezia e noi stiamo cercando di far sì che Civitavecchia diventi la sede per scelta. Questo significa non soltanto far conoscere il nome della nostra città all'intero Giappone ma significa far venire qui dei giapponesi si pensa intorno ai 5.000-3.000 giapponesi che ovviamente spenderanno nei nostri negozi e che diffonderanno il marchio Civitavecchia nel mondo e nell'Asia. Il responsabile dei guardie ecozoofile nazionali che stazionano in città Pierluigi Celestini ringrazia pubblicamente e sentitamente la fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per l'aiuto dato alle guardie ecozoofile per la tutela dell'ambiente e un controllo capillare su alcuni aspetti della convivenza civile dei cittadini. Osservanza dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e Ambientale Rifiuti La GESAM è sanzionata per quasi 200.000 euro il comune di Santa Marinella passa leve di fatto contro la società che ha gestito la raccolta differenziata e lo spazzamento Riscontrate 47 irregolarità il sindaco Roberto Baccheca commenta non si poteva più passare sopra queste inadempienze Carunti da parte sua replica a noi non è stato notificato nulla il servizio L'amministrazione comunale comincia a fare la voce grossa nei confronti della GESAM la società che ha in gestione la raccolta differenziata e il trasporto in discarica dei rifiuti Dopo le forti pressioni fatte dalle amminoranze che avevano addirittura inviato un dossier alla procura della Repubblica il sindaco Baccheca ha deciso di andarci giù duro con l'azienda e ha inviato alla società romana una lettera in cui la sanziona di quasi 200.000 euro per inadempienze contrattuali Nella missiva il responsabile comunale del servizio fa sapere alla GESAM che nonostante i continui avvertimenti gli inviti al rispetto degli articoli 32 e 33 del capitolato e le riunioni con i responsabili della ditta non è stato posto alcun rimedio alle irregolarità riscontrate e qualora queste continuassero nel tempo resta facoltà dell'amministrazione procedere alla risoluzione del contratto Sono ben 47 le irregolarità riscontrate dal responsabile del servizio che vanno dal mancato avvio del servizio nella frazione di Santa Severa al mancato controllo sul materiale depositato dagli utenti nei contenitori ma le andempienze riguardano anche il mancato spazzamento delle strade il trattamento previdenziale dei dipendenti il mancato lavaggio dei contenitori il mancato posizionamento dei contenitori di pile e farmaci la mancata consegna dei sacchi di plastica agli utenti il mancato rispetto del piano di sfalcio sulle strade la mancata pulizia delle spiagge libere nel 2011 e 2012 la ritardata rimozione delle discariche abusive sul territorio cittadino la multa più consistente di circa 90.000 euro riguarda la mancata attuazione dell'offerta migliorativa sul lavaggio dei contenitori dal luglio 2011 a luglio 2013 non si poteva più passare sopra queste inadempienze commenta il sindaco Roberto Bacheca purtroppo la società non ottemperava il contratto sottoscritto e noi queste cose gliele abbiamo più volte segnalate sinceramente non so se la GESAM farà ricorso comunque non credo che arriveranno al tribunale il nostro obiettivo è quello che lavorino meglio nella stagione estiva le penali prosegue il primo cittadino comunque continueranno se loro non decideranno di mettersi in regola con il contratto sulla Tares dico che dal prossimo anno ci sarà una sconto del 5% considerato che la raccolta differenziata ci ha portato nel 2012 a un risparmio di 400.000 euro la GESAM dal canto suo secondo le dichiarazioni rilasciate dal responsabile non ha ancora ricevuto la notizia della multa della multa lo sento da lei dice Romeo Caronti e sinceramente a noi non è arrivato nulla neppure il fax chiaro che se il comune pretende da noi circa 200.000 euro non possiamo fare altro che chiudere le tende e andarcene il circolo cittadino del PD di Santa Varinella riguarda la vicenda della raccolta differenziata ai rapporti tra l'amministrazione e la GESAM vicende di cui sono in corso indagini delle autorità preposte si sente di integrare alcune situazioni che rendono questa vicenda degna di ulteriori attenzioni la segnalazione alla procura attraverso i consiglieri di opposizione all'epoca era rivolta in sostanza a verificare le procedure di assegnazione in particolare la nomina della commissione di gara dice il proprietario del PD Aldo Carletti dopo aver smantellato l'ufficio gara unico responsabile delle nomine dell'espletamento di bandi la giunta costituì una commissione scegliendo i membri tra i dipendenti del comune ci sembrava a suo tempo un atto illegittimo sia nella forma sia nella sostanza la nomina fatta dalla giunta e non dall'ufficio preposto i carabinieri di Ostia hanno arrestato 21 persone per traffico internazionale di droga sgominando un'organizzazione che faceva capo ad un pluri pregiudicato Daniele Cossiga uno dei componenti del gruppo anche gli finito in carcere aveva legami con il clam camorristico sorprendente di Bagnoli Napoli gli arrestati sono uomini e donne tutti italiani l'organizzazione trafficava stupefacenti in diversi stati l'inchiesta è coordinata dalla direzione distrittuale antimafia la DDA di Roma l'operazione si è svolta stamane tra Roma, Ostia e Fiumicino i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Ostia a conclusione dell'operazione denominata Arturo della DDA di Roma hanno eseguito le 21 ordinanze di custodia in carcere emessere dal GIP della capitale gli arrestati sono considerati a vario titolo responsabile dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti organizzato in più di uno stato e detenzione spaccio continuato in concorso di ingenti quantità di droga l'operazione ha avuto origine da un altro procedimento penale della procura di Trieste passato a Roma per competenza territoriale in quasi un anno di indagini è stato possibile acquisire una serie di elementi si legge in una nota del comando provinciale dell'arma su responsabilità penali su soggetti che pur avendo rivestito ruoli diversi sono risultati responsabili in concorso a vario titolo di aver organizzato condotto un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e marijuana sull'asse Italia-Slovenia la banda è messo sul territorio nazionale ingenti quantitativi di stupefacenti alcuni dei quali aventi come destinatari soggetti residenti sul litorale romano una carovana itinerante in difesa della vecchia oreglia si muoverà sulla tratta civita vecchia follonica l'appuntamento è per domenica 17 novembre alle 13.30 con partenza dalla barriera San Giusto di Tarquigni arrivo previsto a Montalto di Castro per le 14 a seguire Capabio alle 14.30 Orbetello alle 16 come è previsto l'incontro con tutti i comitati locali che si mobilitano al grido SOS Aureglia l'evento è stato infatti organizzato per impedire la trasformazione di una statale pubblica gratuita in autostrada tirrenica a pagamento evitando pesanti pregiudizi economici ai residenti nei comuni lambiti dall'infrastruttura a cui viene negato il diritto alla mobilità la cessione gratuita della statale rappresenta un indebito incentivo economico all'attività di impresa della sat società autostrada tirrenica spiegano gli organizzatori in contrasto con la normativa comunitaria in tema di aiuti di stato nonché una regalia ad una società privata la tirrenica è simbolo di un intreccio tra politica finanze costruttori e concessionari venne rappresentato dalla composizione dell'azionariato sat che unisce i soliti palazzinari Gruppo Agavio Benetton e Caltagirone una banca rossa Montepaschi alcune cooperative rosse Alcoa e personaggi in palese conflitto di interesse come il Dallemiano Bargone ad un tempo presidente di Sat e commissario governativo per l'autostrada mentre i dati di autostrade per l'Italia indicano un calo di veicoli in transito sulla Roma Cività Vecchia spiegano gli organizzatori e le strade regionali continuano a non essere in sicurezza la casta politica regala una strada statale vitale per i cittadini ad una società privata con grave pregiudizio per i destini delle comunità locali il comitato antidiscarica di Allumiere ha chiesto di rivedere urbanisticamente la zona industriale durante la commissione indetta per discutere del progetto di rifiuti inerti allo spizzicatore secondo il comitato l'impedimento adotto dal comune non basta è solo di natura tecnica e non offre alcuna garanzia sullo stop alla realizzazione dell'impianto che approderà in conferenza dei servizi il prossimo 15 novembre lo sentiamo nel servizio la conferenza dei servizi è stata rinviata al 15 novembre ma l'amministrazione comunale ha chiesto lo spostamento al 21 novembre per impegni così precisano dal comitato antidiscarica di Allumiere a proposito della data in cui si terrà la conferenza dei servizi a Palazzo Valentini per valutare la fattibilità del progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti inerti allo spizzicatore abbiamo chiesto in commissione all'amministrazione comunale di rivedere urbanisticamente la zona industriale spiegano dal comitato antidiscarica e pur credendo nella buona fede dell'amministrazione comunale passata e presente creiamo sia necessario o cambiare area per zona industriale o fare come ogni comune che la individua in aree pubbliche non private per evitare speculazioni sulla stessa linea i consiglieri di minoranza Vincenzo Sgamma e Domenico Vittori Sgamma ha precisato che a suo tempo lui, Annibali, Morbidelli Stefanini e Craba si opposero alla creazione dell'area industriale allo spizzicatore e votarono no al piano regolatore e oggi i fatti dimostrano che avevano ragione il comitato antidiscarica spiega il progetto della leanza ha già ottenuto la valutazione di incidenza e visto che in conferenza si vota a maggioranza il voto di Allumiere vale 1 e quindi quasi niente l'impedimento addotto dal comune cioè che manca il piano di insediamento industriale è solo di natura tecnica ma non basta il comma 6 dell'articolo 208 del decreto legislativo 152 del 2006 dice che entro 30 giorni del ricevimento dalla conclusione della conferenza dei servizi valutando la risultanza della stessa la regione in caso di indicazione positiva del progetto cioè che passa la conferenza dei servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti i pareri autorizzazioni e concessioni di organi regionali provinciali e comunali e costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferiabilità dei lavori detto questo tutti possono capire i motivi effettivi che abbiamo e passiamo allo sport calcio scende in campo oggi il Cività Vecchia per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia di eccellenza l'andata al fattori fini 1-1 fra i neri azzurri ed il Real Sporting Pomezia mister Castagnari parla della sfida di risorno che inizierà alle 14.30 faremo un tour over calcolato come sempre fatto fino ad oggi d'altronde in campo sicuramente andranno coloro che saranno squalificati in campo sia Leone e Di Marco oltre ai senior Romagnoli e Baroncini per gli altri vedremo le condizioni fisiche la partita contro Riete è stata molto dispendiosa e non voglio rischiare gli acciaccati di scena anche il Ladispoli che sfida l'Alba Longa l'imperativo per passare il turno è non perdere al Pio XII l'andata fu una bagarre il Ladispoli impattò 2-2 usufruendo di due penalti molto discusse decisioni apparse totalmente impopolari dai castellani da far perdere le staffe quanto altro alla truppa di Pierpaolo Lauretti Pallavolo festa grande ieri all'Aulapucci con la società locale che presentava le sue squadre davanti ad un ospite d'eccezione il pluri campione del mondo Paolo Tofoli sentiamo l'intervista realizzata all'Azzurro per noi da Luca Grossi che consiglio che consiglio può dare ai giocatori e agli allenatori che si avvicinano a questo sport ma di fare la cosa di impegnarsi di metterci tanto entusiasmo alla fine è quello bisogna sapere coinvolgere i giovani le giovani e cercare di portare più bambini bambine in palestra per far giocare la pallavolo la pallavolo italiana ha un futuro rosso davanti? ma futuro rosso c'è da lavorare adesso un po' con il fatto della crisi molti giocatori d'alto livello sono andati via quindi bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di creare giocatori nel vivaio e quindi giovani portare come ho detto prima giovani in palestra e cercare di creare qualche campione magari sabato 16 domenica 17 novembre si terrà presso la palestra comunale del Pincio il primo seminario in Italia del One Jing Peng organizzato da la ICAM sezione Cività Vecchia il cui presidente è il maestro Stefano Rapaccioni l'evento è organizzato in collaborazione con la scuola pechinese di Ving Tsun VSL Association ma questa è l'ultima informazione per l'edizione del TG Alto Lazio vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortese attenzione arrivederci grazie a tutti jaglierà grazie a tutti Grazie a tutti.